Cloud Hosting è il servizio di hosting di Aruba Business, pensato per i rivenditori professionisti IT che hanno bisogno di flessibilità nella gestione dei propri siti web e quelli dei propri clienti con risorse scalabili. L'hosting di Aruba Business garantisce prestazioni elevate grazie alla combinazione di diversi fattori come l'infrastruttura dedicata su Private Cloud, replicato su due data center, storage con dischi full SSD, spazio web illimitato e RAM garantita per ciascun pacchetto. Tramite il pannello di controllo, puoi monitorare l'utilizzo delle risorse ed effettuare un upgrade di RAM senza intervenire sul server. Puoi inoltre decidere di spostare un dominio da un Cloud Hosting ad un altro per ottimizzare l'utilizzo delle risorse, senza bisogno di migrare i contenuti.